Poi tutto quanto vedete per questo gioco e per gli altri cui potrete assistere nel corso della serata. ...fai fare la spola, avanti o dietro, per portare il materiale, poi più tardi ce le mangeremo, beh questo non lo so, non è previsto nel regolamento, però si può sentire. Ti preannuncio che ci sarà anche il gioco che tanto succede. ...fai, Tania! ...fai, Tania! ...fai, Tania! ...fai! ...fai, Tania! ...fai, Tania! Il primo palloncino è Giulia Destinazione, così è che alla stessa... Sì! Ancora? Ancora! Eccolo qua! Eccolo qua, il centroavento... Allora, vediamo un po' questa seconda palloncino... Sì, arriva... Adesso lo deve lanciare, vedete? Beh, lo tutto è pronto... È pronta di scoppia! Con lo spalaccio... Chi non può sbagliare... Carasho significa bene, spagnolo, russo o arabo? Attenzione, i pupali, russo, risposta esatta! Il secondo lancio è venuto, Attenzione, ecco la conferenza che è spazio! E' spazio di qualche peringo, cercano giusto sincronismo nel lancio, i due lanciatori, ecco lì! Sia, parte, arriva, 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 arriva! 3, 2, 1, via! Allora, partiti! Allora, sono uno dietro l'altro, come vedete! Il problema poi è che non cade anche il cocomero, cade l'asticella, è fatta cadere dal concorrente del borgo antico, è in testa il concorrente del bufali, che vedete si trascina, carpioni, trova un ostacolo, cade il cocomero! Io non so poi come lo mangeranno perché... Buon'altro! Buon lavoro! Buon vito! Buon vito! Grazie a tutti. Grazie a tutti.